ma certo ecco cos'era un nuovo movimento Chissà che avrà da protestare e chissà quando smetteranno, delle volte durano mesi, altre un po' di vento forte e sparito, poi però dopo un po' ne arriva un altro e si ricomincia a marciare, sembrano le nuvole. Vanno e vengono, minacciosi o pacifici, all'apparenza compatti eppure con mille teste diverse, quando perdono si dissolvono, se vincono durano poco, arrivano, accadono, passano e poi tornano, ma che cosa vuol dire che assomigliano alle nuvole? Grazie a tutti. 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 Neonati, cantanti, ballerine, maghi della pioggia, ma che roba è? Sto divagando. Allora ripartiamo dall'inizio. Prendiamo ad esempio questo movimento qua per strada. Dunque da dove vengono e cosa vogliono? Grazie a tutti.